Buonasera a tutti, oggi 21.03.2020, ora è sempre 18, oggi è entrata la primavera e quindi la primavera in genere è fuoriera di speranza, di rinascita della natura tua e quindi rinasceremo anche noi. Comunico che domani eviterò di fare le canzoni, spero che lo faccia qualcuno perché in un gruppo dove ci sono artisti diciamo, chi canta c'è l'untano, chi fa parte di cori, chi suona la chitarra, chi la batteria, chi fa il giulare, chi ha, non facciano nulla per allietarci, domani mi riposo. Quindi faccio due pezzi insieme, un po' sull'allegrotto movimentati. Per una vita io vendo tutti i sogni miei, per una vita ci metto sopra pure lei, per una fare sai, basta ricordare di non amare, di non amare. Amico caro, se c'è qualcosa che non va, se ho chiesto troppo, tu dammi pure la metà. e ad un affare sai, basta ricordare di non amare, di non amare. no, 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 no no, 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 no per una vita Io vendo tutto ciò che ho Per una lira Io so che lei non dice no Ma se penso che Tu sei un buon amico Non te lo dico Meglio per te 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.